Torna nelle edicole siciliane il quotidiano e il foglio. Per tutta l'estate il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara ed oggi diretto da giornalista di origini palermitane Claudio Cerasa sarà distribuito in tutta la Sicilia. Un ritorno alle origini in fondo perché con la nostra regione il quotidiano ha un legame forte e radicato. Firme prestigiose come quella di Peppino Sottile e Pietrangelo Buttafuoco hanno impreziosito nel tempo le pagine del giornale. Nato il 30 gennaio del 1996 il foglio è stato diretto sino al 2015 da Giuliano Ferrara. Poi la decisione di passare la mano a Claudio Cerasa. Decisione annunciata in diretta tv alle invasioni barbariche. Tu hai mai pensato di lasciare la direzione del foglio a un giovane? Certo, la lascio a Cerasa. Adesso bisogna definire. Lasci la direzione del foglio. Entriamo nel ventesimo anno. A Claudio Cerasa? Certo, entriamo nel ventesimo anno, 31 anni, ma forse ne ha 32. E quando accadrà? Quando accadrà? Presto, presto. Non so cosa dire. Sono cose societarie, bisogna definirle in modo rigoroso, formale, eccetera, eccetera. Però io non sono mica un satrapo, posso mica stare 40 anni in un giornale. Il giornale prende il nome dal suo caratteristico formato a lenzuolo. Eco dalla tradizione dei grandi newspaper anglosassoni americani come il Wall Street Journal, il foglio si caratterizza per la grandissima attenzione alla qualità della scrittura, alla ricerca puntigliosa delle parole giuste e delle sfumature di senso. Il foglio di Cerasa, in fondo, ci ricorda che pensare un mondo senza giornali è un po' come immaginare un paesaggio di campagna senza alberi o una tavola imbandita senza posate. Buongiorno e bentornati a Talk Sicilia, il nostro programma di approfondimento. Oggi parliamo di informazione e lo facciamo con un figlio della nostra terra, un figlio della Sicilia che, come tanti giovani professionisti brillanti, ha preso il largo e è andato a dirigere uno dei più importanti quotidiani italiani. Scusate la papera, ma ci sta. C'è anche un po' di emozione nel dare il benvenuto a Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Buongiorno, direttore, benvenuto a Talk Sicilia. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, Claudio, i giornalisti si andano tu. Noi è la prima volta che ci incontriamo e che ci vediamo soltanto in questa modalità virtuale. Tu dirigi il Foglio ormai dal 2015, probabilmente sei stato uno dei più giovani direttori responsabili delle grandi testate nazionali. Qual è l'emozione che si prova nel ricoprire sulle proprie spalle tutta questa grande responsabilità? Beh, è enorme naturalmente, ma non c'è spazio per emozionarsi quando si ha una responsabilità. bisogna mettere da parte le sensazioni e anche le comprensibili emozioni per concentrarsi sul mestiere più bello del mondo, ma forse anche uno dei mestieri più complicati di questa fase storica dove tutto è in trasformazione, dove ci sono mille problemi, ma anche mille estraordinarie opportunità per crescere, per poter fare un buon prodotto a servizio dei lettori, ma anche a servizio di alcune idee precise, chiare e forti. Allora, prima di parlare delle idee che esprime la Lìa Editoriale del Foglio, in realtà c'è una gran bella notizia per i siciliani, perché il Foglio ritorna, ne dicono, in Sicilia per tutto il periodo estivo. Come mai questa scelta di ritornare a una distribuzione proprio nel periodo estivo? Beh, intanto per rendere omaggio alla mia terra, ovviamente, e poi perché crediamo che in una fase come questa, quando si ha la possibilità, bisogna arrivare dappertutto e bisogna fare uno sforzo per poter unire a una buona informazione anche una sana formazione, come la chiamiamo noi, perché quello che il Foglio cerca di fare ogni giorno è offrire un contenuto originale con una linea non ordinaria e delle posizioni un po' non convenzionali su quello che succede in Italia e nel mondo. E in un momento in cui la Sicilia si affolla di tantissime persone, pensiamo possa essere un'opportunità ottima per la Sicilia, ma anche per noi, farci conoscere, far conoscere il nostro pensiero e cercare di avvicinarci soprattutto ai giovani. Ma come mai questa scelta di ritornare proprio adesso? C'è, come dire, un paradigma politico che state seguendo, una linea editoriale, o è soltanto, come dire, una parentesi che poi magari potrà essere replicata in altre occasioni nel futuro? Beh, d'estate cerchiamo sempre di esserci in Sicilia e a maggior ragione in una fase come questa in cui c'è grande dinamicità politica e ci sono mille opportunità per la Sicilia e c'è una stagione che potrebbe essere promettente non dal punto di vista politico quanto dal punto di vista delle straordinarie opportunità che offre oggi la nostra terra anche dal punto di vista del potenziale imprenditoriale che ci potrebbe essere. Quindi non soltanto, diciamo, un'analisi della cifra politica che esprime attualmente la Sicilia ma anche le possibilità di sviluppo di questo territorio. Ma devo dire che tu con molta gentilezza hai usato degli eufemismi perché hai parlato di situazione politica abbastanza, come dire, effervescente in Sicilia. In realtà, non l'hai mandato a dire perché tu ti presenti col volto così gentile, con una dialettica così chiara e forbita, ma in realtà è il foglio per sua tradizione storica, è un giornale che non ha mai fatto sconti a nessuno. No, assolutamente. Abbiamo le nostre idee. Per esempio, quando in Sicilia c'è un governatore che, per esempio, mostra alcune diffidenze rispetto a innovazioni, rispetto anche a temi che riguardano il fotovoltaico o i termomovolizzatori, quando ci sono alcune ambiguità rispetto al tentativo di essere all'altezza delle sfide del presente, noi siamo molto severi. E poi vi sono anche, la Sicilia è anche una regione che è un laboratorio molto spesso di quel che accadde appunto di Sabolidio e quindi poterla monitorarla e raccontarla anche nelle sue spicolature è un elemento fondamentale. Faccio un piccolo esempio, sabato scorso abbiamo dedicato una pagina a una storia che mi ha molto colpito, che è quella di Ragusa, che è l'unica città in Italia, insieme a Bolzano, pensate quanto sono distanti queste città, ad aver registrato negli ultimi anni un progresso nel trend demografico, cioè è l'unica città dove si è cominciato a fare più figli rispetto al passato ed è un caso straordinario, non ordinario, che merita di essere raccontato e che merita anche di essere strappato alla cronaca locale. Quindi questa è la vostra missione operativa, raccontare il reale però con un taglio editoriale che è sempre stato caratterizzato dalla volontà di andare veramente in fondo sugli argomenti. Voi avete una, diciamo io lo faccio anche con molto affetto perché ricordo a tutti che il Foglio in Sicilia ha una batteria di collaboratori veramente validi, molto forti ovviamente anche nel settore della giudiziaria, c'è il bravissimo Riccardo Loverso, ma sono tanti altri colleghi che lavorano alla confezione delle pagine regionali e nazionali perché ogni tanto ovviamente neanche la Sicilia offre gli spunti nazionali. Detto questo, ma facciamo un'analisi complessiva del mondo del giornalismo e dell'informazione in Italia. Quanto è difficile resistere sul mercato oggi con una foliazione su carta? Le sirene del web, fino a quando non ci costringeranno ad alzare bandiera bianca e a rinunciare a quella meravigliosa esperienza che è la lettura del giornale tenendolo fra i polpazzerelli? No, io penso che non ci sia una dalla discadenza come negli yogurt. La carta resterà sempre uno strumento fondamentale per informarsi, ma anche per poter avere tra le mani qualcosa che ti permette di selezionare senza dover per forza legare quello che stai leggendo a qualche altra cosa che potresti leggere. Carta significa fermarsi, fermarsi significa ragionare. Ragionare vuol dire non soltanto guardare qualcosa, ma anche osservare, andare in profondità, cercare di avere una concettazione maggiore rispetto a quel che leggeresti navigando sul web. Il web è pieno di informazioni di qualità, ma spesso si consulta quel tipo di informazione in maniera rapsodica, come se fosse un flusso continuo. La carta invece sono convinto che creerà sempre di più dipendenza positiva perché ti permetterà di fermarti e sarà, per noi ma anche per le più importanti testate del mondo, un asset irrinunciabile perché ti dà forza, ti costringe anche come impostazione mentale e giornalistica a selezionare, a avere una tua gerarchia, ad avere un agendo delle cose importanti da raccontare. L'impostazione grafica del foglio rimane sempre quella da sempre, è una impostazione molto classica che si ispira alla grande tradizione dei quotidiani inglesi. Anche la forma, la sua sostanza, tu hai fatto una riflessione sulla differenza che c'è nella fruizione di un giornale online e di un giornale su carta. Mi è sembrato un poco anche l'eco della vecchia teoria di Marshall McLuhan. È necessario fare degli aggiornamenti sull'impianto grafico per rendere più attraente il giornale dei lettori o quella è una scelta culturale precisa? La scelta del foglio che si ispira al giornale anglosassone, in particolar modo si ispira al Boston Journal, il famoso giornale americano con impostazione liberale, nel senso del liberista però non liberal. È un giornale che ha scelto di non puntare sulle immagini, sui grandi titoli perché vuole non emozionare ma vuole far ragionare, vuole mettere al centro il gusto della parola, il gusto musicale della scelta di una frase, i giochi di parole, si concentra sul testo. Quella è la cosa fondamentale. Abbiamo al massimo una foto, pensate, ogni numero. Il sabato ne abbiamo di più perché abbiamo un giornale più orientato dal punto di vista culturale ma la scelta è sulle parole e dovremo tutti riacquistare anche una dimistichezza con la bellezza delle parole e la bellezza dei ragionamenti che non sempre devono essere accompagnati da enfasi, da foto che si mangiano il testo e da titoloni con i quali si vuole emozionare o indignare più che far ragionare. Mi sembra un'ottima riflessione anche perché uno dei grandi problemi che affronta il nostro paese è quello dell'analfabetismo funzionale. Quindi in questo caso il giornale, il foglio ha una mission di riappropriarsi della parola scritta. È così, assolutamente così e cerchiamo anche per questa ragione di fare non soltanto informazione ma anche formazione. Attraverso le parole cerchiamo di emozionare con le parole ma anche di provocare delle reazioni e quindi provochiamo anche delle riflessioni. Non pretendiamo che tutte le persone che ci leggono sono d'accordo con noi ma pretendiamo che le nostre parole facciano ragionare. Chi vuole crescere e vuole, ed è un po' stanco magari, del semplice flusso quotidiano di notizie e vuole capire perché qualcosa succede, perché quella cosa è stata detta e vuole avere anche uno sguardo originale e non ordinario sul presente, penso che fa una buona scelta se dà uno sguardo al foglio. Un'ultima battuta e poi ti lascio alla confessione del tuo giornale e al tuo lavoro quotidiano, no? Mai come in questo caso lavoro quotidiano. Claudio, quanto ti manca la Sicilia e che suggerimento dai ai tanti giovani che non riescono a trovare un'opportunità professionale in questa terra, che è talmente meravigliosa ma talmente maledetta da non riuscire a scollarsi di dosso questo peso gigantesco dell'insipienza, dell'incapacità di crescere? Moltissimo, mi manca la Sicilia naturalmente e mi manca esserci, mi manca andarci, mi manca poter parlare con gli amici siciliani dal vivo e credo che l'unico consiglio che si possa studiare a tutti i giovani che hanno sogni in Sicilia è quello di coltivare i propri sogni, di studiare, di leggere, di informarsi e di avere sempre almeno due obiettivi o due progetti di fronte ai propri occhi e cercare di impegnarsi al massimo con lo studio, con il lavoro, con le passioni, anche con i lavoretti per raggiungere il proprio risultato e soprattutto provare a fare qualcosa di bello per se stessi ma anche per la propria terra. Claudio io ti ringrazio, allora lanciamo un invito a tutti coloro che ci seguono sia sul web sia in televisione o sulla nostra pagina online blog sicilia.it, video regione, canale 14 e digitale terrestre, io ringrazio il direttore del foglio Claudio Cerasa e l'invito a chi ci ha seguito è comprate il foglio in edicola perché è un'esperienza di lettura da non perdere. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, arrivederci alla prossima puntata di Talk Sicilia. Grazie, gentilissimi, grazie, a presto. A presto.